ciao ecco un altro bel trio di porcini il primo stranissimo dietro a una pietra andiamo a raccoglierlo togliendo la pietra sembra strano perché sembra posato lì però accidenti incredibile sto fungo meraviglioso sembra finto posiamo andiamo di fianco alla prima pietra che questa ce n'è un'altra dove sopra c'è il nostro porcinetto togliamo la pietra perché qua sotto ce n'è un altro ecco qua primo una palla usiamo un secondo ecco qua accompagnate gli altri ciao a tutti